Coordinate! Charlie! 5! Eliminare! Charlie! 5! Ricevuto! Aprire il fuoco! Carro armato! A ore 1! A presto a ferro! Colpito! Versaglio colpito! Il fuoco! Il fuoco! Il fuoco il fuoco! Il fuoco il fuoco! Il fuoco il fuoco! 500 peces! Attractive! Versaio coltito! Statico cito! Settile destro! Settile dato! Con listo primo di celsi! Ampli. This attack! The enemy will win! Grazie a tutti. 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 Attacca! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.